Radio e a microonde indicano la Ace Chemicals, è lì che lo spaventapasseri produce la tossina. Jim, ho trovato la tossina alla Ace Chemicals, lì troveremo lo spaventapasseri. Impossibile, ho lasciato lì una squadra dall'inizio dell'evacuazione, come avevi chiesto. Crane deve averli corrotti, o peggio. Sono in zona, raduno i miei uomini e procedo. Aspettami prima di agire, Jim, sto arrivando.